Camminava a bordo strada con il rischio di essere investito in stato confusionale. Un equipaggio della volante della polizia ieri pomeriggio intorno alle 17.30 ha salvato un anziano lungo la statare 34 all'altezza dei tre ponti. L'uomo che procedeva sul lato sinistro della carreggiata correva il rischio di essere investito. I poliziotti si sono avvicinati, si sono accorti che non ricordava il proprio nome e non era in grado di dire da dove venisse e cosa ci facesse lì. Lo hanno allora fatto salire in auto e lo hanno tranquillizzato. Con sé non aveva documenti, se non una carta di credito intestata a un cittadino tedesco nato nel 1929. I poliziotti hanno trasmesso subito i dati alla sala operativa che ha scoperto che l'anziano soggiornava all'hotel Borivage, dove è stato così riaccompagnato. È emerso che il novantenne era andato con un gruppo di connazionali a visitare i giardini di Villa Taranto, ma poi si era allontanato. Grazie. Grazie.